Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei webinar di Graphisoft, in particolare di questo della serie Open BIM, dove esploriamo le innumerevoli possibilità che ci offre questo approccio di lavoro. Oggi parliamo di 5D, quindi computazione, e lo facciamo insieme all'architetto Riccardo Scalari di Team System, così che completi il discorso iniziato all'interno di Archicad e che in più ci mostrerà la nuova soluzione di Compute in Cloud che permette di operare direttamente all'interno di Archicad. Prima di partire vi chiedo se funziona tutto, se non ci sono problemi, se l'audio è a posto, quindi aspetto un vostro breve e rapido riscontro per partire. Vediamo un po', tutto ok, perfetto, allora diciamo che possiamo cominciare. Allora parliamo di 5D, diamo una rapida definizione, lo facciamo partendo dalla definizione della norma UNI 11337 che definisce la quinta dimensione come simulazione dell'opera dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre che dello spazio e del tempo. Questo significa in poche parole che se intendiamo per 3D un modello tridimensionale al quale integriamo dei dati, con il 4D abbiamo il modello della terza dimensione, nel senso del BIM, quindi terza dimensione geometrica più le informazioni connesse unite a un Gantt, con il quinto D ci occupiamo, connettiamo il nostro modello a dei prezzari, delle voci di listino. e quindi in poche parole possiamo, operando una sintesi un po' brutale, considerare la lavorazione, l'uso del BIM afferente al 5D, quindi alla computazione, come la connessione fra delle quantità identificate ed estrapolate dal nostro modello tridimensionale con una voce di listino al quale viene poi successivamente applicata una formazione del prezzo. Ci sono diversi modi per stimare o calcolare, vedremo, riprenderemo dopo questo tema su stima e calcolo, la misura può essere a corpo o può essere effettiva e via dicendo. Quindi come prima cosa, noi ci occuperemo, vi mostrerò per un quarto d'ora, 20 minuti, come si lavora, come si predispone il modello all'interno di Archicad, per poi passare la mano allo specialista, al tecnico che si occupa di computazione vera e propria e che quindi andrà a utilizzare dei software specifici. Quindi all'interno di Archicad noi dobbiamo innanzitutto operare la cosiddetta estrazione delle quantità, quindi andare a essenzialmente identificare i nostri elementi all'interno del modello che ne contiene veramente tanti, quindi in poche parole è la ricerca del cosiddetto agono e il pagliaio. Come facciamo quest'operazione? Innanzitutto dobbiamo stabilire dei criteri di identificazione che sono innanzitutto l'ID, quindi il nome dell'oggetto, il nome proprio dell'oggetto, il tipo di IFC, possiamo utilizzare come criterio di selezione anche il lucido, il layer, oppure le classificazioni, queste invece sono estremamente importanti, e infine il cosiddetto GUID, Global Unique Identification. Il primo criterio di selezione è sicuramente quello dell'ID, quindi assegniamo un nome a ogni elemento, ci sono dei metodi manuali, oppure esistono delle strategie che permettono di dargli una numerazione progressiva con un senso logico, ad esempio la numerazione può ripartire ad ogni piano, oppure possiamo assegnare a ogni elemento un ID unico per ogni stanza di quell'elemento, oppure un unico ID per ogni categoria, per ogni tipologia di elementi. In Archicad questo lo facciamo essenzialmente attraverso il gestore ID elemento, uno strumento molto efficace, oppure lo possiamo fare anche attraverso l'apposito add-on che trovate per chi è in contratto di assistenza aggiornamento nella sezione Archiclub, che permette appunto di assegnare una numerazione progressiva seguendo un ordine, quindi con una logica di tipo spaziale. Oppure non dimentichiamo da ultimo le espressioni che possono essere utilizzati per concatenare diversi codici così da formare una stringa e avere il nostro ID unico. Quando identifichiamo un elemento questo dobbiamo considerare che questo a sua volta può essere costituito da diversi sub elementi, è il caso ad esempio delle scale, delle ringhiere e dei dei curtain wall che sono elementi complessi costituiti a loro volta da più oggetti, questo è vero sia per ISC che li nomina ISC container, oggetti contenitori, ma fa parte anche della logica di Archicad che chi già utilizza il nostro software sa che c'è un ambiente di editazione interna e quindi nella esportazione in ISC noi abbiamo la scelta se conservare la gerarchia di tutti i sub componenti oppure di ottenere un unico elemento e per una computazione accurata probabilmente è preferibile conservare la gerarchia e vedete infatti che esportando poi l'elemento scala abbiamo la visualizzazione dell'elemento dell'oggetto in questo in questo caso la scala 002 con al suo interno le diverse pedate e alzate la parte strutturale ognuna identificata con un proprio codice e questo è un tipo di procedura e strategia che è applicabile a partire dalla versione 23 di Archicad anche a travi e pilastri e i suoi segmenti che lo vanno a costituire. L'identificazione tramite il tipo ISC noi possiamo avere diverse istanze di un elemento ad esempio i serramenti ma i quali fanno riferimento a un'unica categoria nel caso tipico dei serramenti abbiamo bisogno di selezionare tutti i serramenti di misura a due ante di misura 200 per 200 se noi diamo all'amico computista già l'informazione scritta e strutturata nel nostro albero ISC sicuramente gli facciamo un favore. Ricordiamoci di rinominare di riassegnare una regola per individuare e identificare il tipo ISC quello che nella mappatura proprietà per l'esportazione vediamo contrassegnato in verde e vedete che possiamo creare una nuova regola andandola a concatenare diversi elementi come in questo caso il nome dell'elemento seguito dalle dimensioni nominali. Di default ricordatevi che i serramenti quindi porte e finestre vengono nominati semplicemente con il nome di elemento della libreria quindi queste due finestre che sono diverse per dimensioni si ritroveranno sotto un'unica categoria quindi è consigliabile operare questo tipo di modifica all'interno del traduttore. Ovviamente il lucido qui vediamo lo strumento trova e selezione che a mio parere è uno dei più utili direi anzi indispensabili all'interno di Archicad oppure le classificazioni. Mettiamo caso qui vi ho riportato un esempio molto molto semplice ma in taluni casi individuare una categoria di elementi può essere anche piuttosto complesso quindi anziché utilizzare diversi criteri di selezione possiamo utilizzarne uno solo che fa riferimento alle voci di classificazione. Tutti gli elementi che sono nel ramo di classificazione X vengono in questo modo individuati molto più velocemente ma le classificazioni hanno diversi utilizzi che vanno ben oltre questo ci torneremo brevemente di seguito per quanto possiamo con per quanto possiamo fare nel breve tempo che abbiamo a disposizione. Breve intendo per la vastità dell'argomento. Un altro tipo di identificazione è quella cosiddetta degli IRC assignments quindi gli oggetti vengono assegnati c'è la possibilità di essere assegnati a diversi raggruppamenti. Qui vedete nel gestore del progetto IRC in questa linguetta abbiamo la possibilità di creare qualsiasi tipo di gruppo e questi gruppi hanno diverse caratteristiche quindi possiamo identificare gli attori quindi chi sono gli incaricati delle diverse parti d'opera e trasciniamo tutti gli elementi all'interno del nostro albero della struttura spaziale all'interno di questa nuova categoria che abbiamo creato per poi ritrovarcela all'interno del nostro modello IRC. Quindi abbiamo la nostra struttura spaziale organizzata per sito edificio i piani ad ogni piano e diversi elementi e oltre a questo abbiamo anche la possibilità di vedere questi raggruppamenti quindi molto utili per selezioni complesse che quindi vedono all'interno della stessa categoria elementi di natura diversa oppure quando dobbiamo procedere con raggruppamenti per categorie di tipo astratte soglie temporali piuttosto che appunto come dicevamo prima gli incaricati. Un altro elemento estremamente importante è il GUID è un identificativo che non viene utilizzato direttamente dall'utente qualcosa di cui si occupa la macchina è estremamente importante però per gestire gli aggiornamenti delle versioni del nostro modello quindi nel momento in cui andiamo a confrontare due o più modelli fra loro per verificare quali elementi sono stati quali elementi sono stati modificati aggiunti o eliminati lo facciamo attraverso il riconoscimento del GUID quindi attenzione quando lavorate per l'esportazione verso software di computo e analisi dei prezzi attenzione a non modificare non eliminare erroneamente degli elementi perché se viene eliminato un elemento e successivamente reimmesso a questo verrà assegnato un nuovo GUID e quindi salta un po' il discorso finora fatto. Un'altra categoria di elementi, le zone, riveste una particolare importanza perché non sempre è possibile andare a computare le quantità immesse e dobbiamo in qualche modo stimarle ricavarle e le zone possono essere un elemento uno strumento estremamente prezioso facciamo un esempio noi disegniamo la soletta del piano con un unico strumento solaio quindi non andiamo a fare più solette per ogni tipo di finitura e quindi se vogliamo computare le diverse finiture degli ambienti quindi i bagni che avranno delle piastrellature o i corridoi o che hanno il parquet facciamo riferimento richiamiamo appunto le informazioni all'interno delle zone stesse di cui possiamo che possiamo interrogare in vari modi possiamo chiedere qual è il suo perimetro l'area l'area delle superfici fenestrate l'area al netto o all'ordo del dei muri che vi si affacciano e via dicendo e quindi ad esempio se abbiamo un rivestimento in piastrelle nei bagni fino all'altezza di 1,80 possiamo fare l'area delle superfici meno dei muri meno una quota della fascia superiore oppure il perimetro moltiplicato per l'altezza di 1,80 al quale sottraiamo le aperture delle porte e via dicendo ma l'utilizzo delle zone è importante anche per un'altra ragione ecco giustamente bisogna ricordarsi di visualizzare anche gli elementi zona perché di default in Archicad questa spunta non compare e quindi rischiate di esportare il modello senza le zone anche se sono attive nelle combinazioni di lucidi dicevo che le zone sono importanti anche per un'altra ragione perché permettono di stabilire delle relazioni spaziali con gli elementi ad esse contenuti ad esempio dobbiamo identificare tutti i sistemi di arredo tutti gli elementi componenti che si ritrovano all'interno di determinate zone e non in altre e esiste questa funzione che è contenuto spazio ISC e che ci permette oltretutto di filtrare il contenuto quindi possiamo scegliere di non considerare ad esempio trave e pilastri nel caso si trovassero all'interno e compresi all'interno di una zona e quindi ci permette di individuare tutti gli elementi contenuti in quello determinato spazio e questo chiaramente lo ritroviamo anche nel nostro file ISC dove vedete la struttura spaziale riporta gli elementi di tipo spaziale con all'interno tutti i componenti in questo caso componenti di arredo e quindi possiamo interrogare la zona ma possiamo anche interrogare e verificare quali elementi di arredo sono contenuti in quella particolare zona e quindi dicevamo questi sono grossomodo abbiamo visto che ce ne sono anche degli altri i criteri di identificazione e di selezione degli elementi all'interno del modello appunto in molti casi si tratta veramente di trovare l'ago nel pagliaio e li vediamo qui riassunti quindi in pratica abbiamo il nome come vedete in questo visualizzatore ISC sotto la voce sommario viene riportata in qualche modo quella che io chiamo la carta di identità di ogni elemento quindi il nome, quindi l'ID il tipo ISC quindi se consideriamo ogni elemento ISC wall questi possono fare riferimento a una categoria del tipo ISC wall type in questo caso prende il nome della struttura composta utilizzata ma abbiamo visto che è possibile personalizzarlo il lucido o layer e le classificazioni ecco come vedete se ne possono utilizzare più di una ci sono quelle di default di Archicad che servono anche per generare e creare la corrispondenza fra gli elementi di Archicad e il tipo ISC ma possiamo anche unire e utilizzare dei sistemi di classificazioni internazionali perché ad esempio molti criteri che hanno senso per noi non lo hanno altrettanto per altri professionisti ed ecco quindi che è utile utilizzare classificazioni di tipo Uniclass o altro ancora oppure crearne di personalizzate come ad esempio crearsi una struttura della VBS cosa estremamente utile per gli usi del 5D ma anche del 4D due discipline che sono spesso strettamente connesse e infine il GUID una volta individuate, estrapolate gli elementi, le entità dobbiamo procedere alla stima o il calcolo degli elementi in una logica tradizionale diciamo di tipo CAD si procede con la stima di tutti gli elementi nel senso che dalla superficie esterna possiamo stimare la quantità di pannelli di pannelli per il cappotto di rivestimento mentre oggi piuttosto utilizziamo un'altra logica che è quello del computo vero e proprio appoggiandoci al calcolo operato dal software in questo caso da Archicad e quindi andiamo a contabilizzare effettivamente gli spessori, il volume, l'area, la superficie degli elementi proprio perché abbiamo la possibilità di esportare un elemento o come geometria parametrica estrusa quindi un unico elemento che si connette ad altri elementi con il taglio a 45 gradi oppure scomponendole nelle sue parti e questo probabilmente è l'approccio più corretto più funzionale all'uso del computo per fare questo in Archicad ci si basa sul principio delle priority based connections cioè le connessioni basate sulle proprietà dei materiali una funzionalità introdotta con Archicad 17 che effettivamente è estremamente utile estremamente importante non soltanto per la modellazione avanzata e spinta a livello di dettaglio già nel 3D ma estremamente funzionale anche per il discorso della computazione perché quando gli elementi si vanno a incontrare fra di loro vediamo che le connessioni vengono stabilite automaticamente quindi questo è chi utilizza Archicad lo sa già piuttosto bene questa è un'unica soletta ma per effetto delle connessioni basate sulle priorità dei materiali la parte del pacchetto di pavimento viene ridotto da parte dell'elemento murario che è più forte e quindi prevale ecco questa non è un'operazione soltanto di tipo grafica e visuale ma è effettiva un riscontro reale sulla computazione e invito chiunque di voi a fare delle prove e confrontare con il dato che ritroverete poi scritto all'interno del vostro ISE attenzione che quando si opera con il formato ISE i dati quantitativi non vengono calcolati dal software in lettura quindi in questo caso non sarà CPM o altri software a leggere e calcolare tutte le quantità ma è Archicad sempre in questo caso a scrivere e incorporare questo dato all'interno del modello quindi se il dato è sbagliato perché Archicad o altri software l'hanno scritto sbagliato lì sarà verrà poi letto purtroppo in modo sbagliato però come vi dicevo questa procedura all'interno di Archicad è piuttosto affidabile e quindi chiaramente i conti potete vedere come tornano ma vi invito nuovamente a fare anche voi delle prove piuttosto si possono creare delle problematiche ne parlavamo proprio l'altro giorno con l'ingegnere Stefano che non riguardano tanto l'utilizzo del software in sé ma proprio l'approccio la logica di utilizzo riguardo a questi nuovi strumenti quindi se come dicevamo prima se dobbiamo computare le quantità di materiale del cappotto di rivestimento allora andremo a contabilizzare semplicemente i dati scritti da Archicad ma se invece dobbiamo calcolare la superficie esterna quindi ad esempio tutte le pitturazioni che non hanno un vero e proprio spessore qui potremmo avere delle problematiche perché vediamo che un pannello è 140x150 in questo caso ma quello a fianco è 125x150 quindi è più piccolo questo invece non lo ritroviamo nella versione precedente quindi fino ad Archicad 16 e abbiamo invece la connessione a 45 gradi dove effettivamente entrambi i pannelli hanno la stessa identica misura quindi 140x150 e quindi sembrerebbe la situazione ideale la situazione ricercata ma cosa succede quando utilizziamo questo dato per stimare e calcolare la quantità di pannelli di rivestimento ci ritroviamo se lo estrudiamo verso l'interno vediamo che si intersecano quindi c'è quel quadratino che viene contato due volte anche se lo estrudiamo verso l'esterno effettivamente abbiamo quella ripetizione di elementi quindi quale può essere la soluzione quella di applicare in un caso una logica di calcolo e quindi di misurazione del dato scritto dalla software e nell'altro caso ad esempio una regola di calcolo consideriamo che all'interno di un modello non tutto di un modello BIM non tutto può essere effettivamente modellato quando andiamo a fare il calcolo la stima ad esempio dei casseri per il cemento armato di certo non andiamo a modellare i casseri soltanto per poterli computare andremo a fare una stima di tutte le superfici esterne degli elementi classificato come elemento strutturale che applicano quel materiale di tipo cemento armato al netto della parte superiore chiaramente perché nel cassero non mettiamo il tappo oppure lo stesso si può dire per i ferri dei cemento armati certo possono essere modellati ma a volte è più utile più veloce più conveniente fare una stima in base a un tot per volume e quindi tornando al nostro caso sul calcolo della superficie esterna o il calcolo dello sviluppo del materiale un sistema può essere effettivamente quello di considerare la superficie esterna dei pannelli e andare a stimare invece la parte mancante quindi data da superficie esterna del materiale per l'altezza dell'edificio per il numero complessivo degli angoli convessi e quindi in questo caso abbiamo ritrovato il tutto fermo restando che nel caso dell'epitturazione effettivamente potremmo anche applicare un discorso di vuoto per pieno perché non credo che questo dato incida più di tanto oppure lo possiamo sovrastimare attraverso una percentuale bene con questo ho finito la mia introduzione ho anche sforato un po' perché effettivamente a questo punto siamo passati idealmente dal nostro ambiente Archicad verso l'esportazione quindi questo è ciò che il progettista fa all'interno del proprio software di progettazione il nostro Archicad adesso passiamo la palla al computista che oggi è rappresentato da Riccardo Scalari di Team System a cui do il ruolo di relatore e riattivo l'audio Riccardo? Sì, buongiorno a tutti Buongiorno Grazie, grazie Ilario Allora Nascondiamo un attimo le barre di GoToMeeting Allora Io oggi in questa mezz'oretta diciamo che stiamo insieme che staremo insieme vi parlerò di due strumenti per la fase appunto del 5D quindi della quinta dimensione uno strumento è CPM è quello che vediamo è uno strumento che voi potete installare sul vostro computer come puoi utilizzarlo in modalità cloud uno strumento appunto che vi consente di importare i file FC generati in Archicad per procedere appunto con la computazione la fase del 4D quindi del Gantt sincronizzato al modello e le altre diciamo fasi della progettazione poi vi parlerò anche di un altro strumento uno strumento completamente diverso che è Computing Cloud uno strumento integrato ad Archicad tramite un plugin quindi non parliamo più appunto di file FC non parliamo più diciamo di esportazione di importazione all'interno di CPM ma parliamo di un dialogo diretto Archicad Plugin Computing Cloud quindi due strumenti diciamo appunto proceduralmente molto molto diversi essendo diversi naturalmente lavorano anche in modalità differente quindi due strumenti che basano il ragionamento come si diceva uno sull'importazione di un file l'altro appunto sul dialogo tramite tramite plugin allora come vi dicevo sono all'interno di CPM CPM è la piattaforma che vi consente di gestire la commessa in che senso nel senso che voi potete creare i vostri progetti all'interno dei quali creare uno o n preventivi gestire le vostre contabilità i vostri cronoprogrammi i vostri piani della sicurezza i vostri capitolati i piani di manutenzione diciamo che è una piattaforma tutto tondo sul mercato da ormai più di dieci anni ha un parco cliente veramente molto vasto è utilizzato e può essere utilizzato sia da progettisti che da imprese quindi diciamo che appunto le sue funzionalità sono versatili e e diciamo personalizzabili appunto in base alle vostre esigenze la grafica appunto è quella classica diciamo dei programmi Windows quindi vedete che avete una barra con i comandi in alto avete un pannello a sinistra che vi consente di muovervi tra le diverse gestioni io qua sono la gestione dei progetti ho la mia gestione dei miei listini la gestione dei preventivi delle contabilità e poi c'è una griglia centrale una griglia di lavoro dove appunto noi andremo adesso a fare i nostri click la mia presentazione sarà divisa appunto in due parti quindi la prima parte vi farò vedere come lavorare con i file FC in CPM e la seconda parte invece io vi farò vedere come appunto da Archicad tramite un plugin esportare direttamente in Computing Cloud allora appunto questa è la griglia dei miei progetti un progetto che cos'è per noi un progetto per noi è un contenitore di informazioni quindi io all'interno di un progetto posso importare da uno a più modelli IFC da uno a più modelli IFC se voi appunto lavorate solamente con Archicad avrete appunto modelli solo di Archicad nel caso collaboriate in una commessa dove vengono utilizzati anche altri strumenti per esempio penso a tecla penso a software specialistici per la modellazione degli impianti ecco appunto questi applicativi possono esportare in IFC e voi potete ottenere le quantità appunto in CPM anche con file di sorgenti differenti che cosa significa avere un modello IFC all'interno di CPM avere un modello IFC all'interno di CPM significa appunto che io il modello con cui ha fatto la presentazione Ilario appunto l'ho esportato da Archicad e l'ho importato all'interno del mio applicativo avere un modello in CPM significa poter ottenere da una a n informazioni io seleziono uno strato gestito appunto da Ilario nel modello quindi io seleziono uno strato e posso dal file IFC come si diceva leggere una o più informazioni le informazioni appunto possono essere molte quindi come si diceva il flusso di esportazioni in IFC può essere personalizzato e affinato questo logicamente è un esempio quindi diciamo che io vi farò vedere alcuni click con questo file poi diciamo che di domande alla fine le possono nascere veramente parecchie appunto Ilario proponeva la metodologia tramite gli strati tramite i componenti ecco quindi io ho selezionato un elemento nel mio modello e in realtà appunto dall'albero di navigazione del modello capisco che questo è una parte di un muro di un elemento appunto stratificato io adesso sto nascondendo tutto il resto se mi avvicino appunto al mio oggetto vedo che qua ho una vera e propria stratigrafia ecco quindi che riusciamo a capire che IFC consente di esportare i diversi elementi con le rispettive quantità quindi vedete appunto che se io vado sull'intonaco esterno avrò i relativi metri quadri se vado sull'intonaco interno avrò naturalmente una metratura inferiore perché appunto è sullo strato interno e così per i metri quadri dell'isolamento piuttosto che per i metri cubi del mio della mia parte diciamo di tamponamento opaco ecco quindi appunto che IFC è un tramite è un formato di dialogo fra strumenti di modellazione e strumenti appunto per ottenere per ottenere delle quantità delle quantità di computo questo è il nostro visualizzatore come vi dicevo all'interno di CPM è un visualizzatore che non consente la modifica del file appunto è un visualizzatore quindi si leggono tutte le informazioni scritte all'interno del file Ilario durante la sua presentazione ha citato la tematica della VBS della struttura con cui scorperare un'opera ecco eventualmente con CPM esistono delle utilità che vi consentono di aggiungere proprietà quindi se vi serve sappiate appunto che in CPM è possibile arricchire gli oggetti di proprietà per esempio quali la VBS per esempio e poi esportarlo andiamo nell'ambiente del preventivo quindi io chiudo il mio visualizzatore e vado appunto nel mio preventivo apro la griglia la mia griglia sarà vuota il fatto di lavorare con una griglia vi fa capire che CPM è integrato in import e in export con Excel basta semplicemente un clic poi lo vedremo e possiamo esportare o importare ad Excel ma gli stessi clic poi li vedremo anche per esempio con Computing Cloud io quando vado nel mio visualizzatore visualizzo il file mentre visualizzo il file appunto vi ricordo che come dicevo all'inizio io in questo caso sto lavorando con CPM installato sul mio computer ma in realtà potrei lavorare allo stesso identico modo con CPM nel cloud quindi voi potete scegliere se preferite avere un applicativo on premise in locale o comunque su un server vostro fisico oppure lavorare sui server della Microsoft e quindi non avere nulla in locale ma avere tutto nel cloud ecco appunto questo è il nostro visualizzatore qual è diciamo una metodologia di lavoro consigliata è una metodologia che parte dai filtri prima Ilario appunto parlava di tutte quelle proprietà che si possono aggiungere sugli oggetti quindi per esempio citava il lucido e adesso ne guardo alcune logicamente non è che possiamo fare un approfondimento stando qua tutto il pomeriggio appunto quindi è possibile per esempio sfruttare il lucido è possibile per esempio in questo modello io ho guardato sfruttare le informazioni del materiale quindi io posso dirgli dammi tutti gli oggetti che hanno il materiale calcistrutto il programma quindi che cosa trova il programma trova sei elementi con questo materiale e io con la funzionalità del mostra posso vederli nel mio modello sono in particolare appunto gli strati delle solette quindi io che cosa andrò a fare adesso siamo in un ambiente come abbiamo detto in primis di computazione ecco io vi mostrerò i click per creare una regola di calcolo e quindi memorizzare all'interno del mio sistema che tutti gli elementi con queste caratteristiche in particolare ci stiamo dicendo tutti gli elementi in calcistrutto qua avrei potuto aggiungere altri criteri di filtro sulle proprietà gestite da Ilario tutti questi elementi possono essere computati tramite appunto l'aggancio a un articolo ecco quindi che andiamo a parlare del tema dei listini o prezzari in CPM è possibile importare i listini i listini che voi volete gestire è possibile direttamente dai nostri server attingere ai listini online quindi listini camerali e provinciali quindi li potete utilizzare direttamente all'interno di CPM è possibile anche acquistare i prezzari della DEI e quindi appunto soprattutto adesso nel contesto dell'eco bonus possiamo andare a utilizzare appunto i portali della DEI avete visto che io posso fare dei filtri veloci andare a cercare quindi per esempio calcestruzzo nei miei articoli piuttosto che posso andare a navigare il mio albero e andare a cercare nei miei capitoli appunto quello che è l'articolo che devo andare a computare una volta che appunto l'ho l'ho individuato con un doppio clic lo riporto nella maschera della regola di calcolo appunto questa è la mia regola di calcolo quindi che cos'è per noi una regola è un'utilità che ci consente di memorizzare memorizzare in un catalogo che tutte le solette in CLS devono essere computate per esempio appunto con il volume dello strato abbiamo quindi un campo commento dove possiamo andare a inserire per esempio il nome dell'oggetto questi clic che ho fatto non sono clic che io devo rifare tutte le volte io quando inizio a lavorare con CPM avrò una fase logicamente come dire di avvio del prodotto eventualmente anche con il nostro supporto col supporto della nostra assistenza dei nostri consulenti tramite i video tutorial gli utenti possono imparare il prodotto ecco c'è una fase di avvio in cui io devo creare il mio archivio di regole di calcolo che cosa sono le regole di calcolo le regole di calcolo non sono nient'altro che come vi dicevo un'utilità per memorizzare che gli oggetti BIM di un certo tipo devono essere computati con una certa quantità e agganciati a un certo articolo io quindi cosa vado a fare vado a premere il pulsante salva e non creo nessuna riga di computo voi mi direte quindi ma quindi Riccardo che cosa hai fatto hai selezionato degli articoli hai fatto un filtro hai aperto una maschera selezionato il volume e un articolo quindi i passaggi fondamentali sono tre filtro articolo e dimensione con cui computare ecco questi tre passaggi della regola di calcolo li ho memorizzati in un catalogo quindi quando prima ho selezionato nel menu regole archicad non ho fatto altro che memorizzare i miei passaggi che quindi ripeto non vanno ripetuti tutte le volte memorizzare appunto i miei i miei click chiamiamoli così per semplificare mentre Ilaria faceva la sua presentazione io ho preparato qualche altra regola di calcolo e adesso li vado a selezionare quindi io adesso sto selezionando una regola che riguarda gli intonaci una regola che riguarda le tinteggiature una regola che riguarda i mattoni e una regola appunto quella che abbiamo fatto insieme in questi questi minuti che riguarda appunto le solette in calcistruzzo prima di applicare queste regole di calcolo scelgo per esempio di sfruttare le informazioni presenti sul modello BIM e in particolare se voglio posso dividere i miei oggetti in base al piano di appartenenza questo è un esempio Ilario prima citava la VBS quindi se io avessi la VBS a disposizione come proprietà dei miei oggetti BIM potrei usare la VBS piuttosto che potrei usare il lucido quindi tutte le informazioni presenti sugli oggetti BIM possono essere utilizzate per organizzare il mio preventivo il mio computo il programma nel momento in cui io seleziono una regola prima di tutto controlla che sia applicabile voi vi direte è logico hai appena fatto una regola su questo modello è logico che quindi sarà applicabile la risposta è vero ricordatevi però che io le regole posso prepararle su questo modello e poi posso andare può arrivarmi un'altra commessa e posso riutilizzare le stesse regole vediamo quindi mentre io parlavo il programma che cosa ha fatto il programma appunto ha creato n righe di computo ehm organizzate anche appunto per piano quindi io ho le mie quantità e in qualsiasi momento posso vedere appunto ehm i miei oggetti agganciati alle mie righe di computo vedete che io ho una funzionalità che si chiama vedi computati che mi mostra tutti gli oggetti che ho computato con le mie regole di calcolo come vi dicevo le regole di calcolo voi le create per ehm questa commessa ma poi le potete riutilizzare perché? perché le regole di calcolo come anche i listini e i prezzari sono informazioni di sistema quindi non sono informazioni della singola commessa ma sono informazioni che io in qualsiasi momento posso riutilizzare appunto per eh i miei futuri progetti eccole vediamo qua sono le regole appunto che io ho utilizzato prima in tono questa qua in realtà era la regola della tinteggiatura e sono agganciata appunto a un articolo a un articolo specifico io in qualsiasi momento se avessi bisogno potrei duplicare la mia regola e agganciarla ad un altro articolo perché appunto la domanda spesso che ci viene fatta è ma se io ho un progetto a Milano un progetto a Roma come posso fare? allora la regola è la medesima nel senso che la quantità del dell'intonaco è sempre lo stesso però magari la prima è agganciata all'istino di Milano la seconda io in pochi click l'aggancio al listino o all'altro listino di cui ho bisogno quindi io apro la mia maschera e vado sull'altro listino e vado appunto a selezionare il mio articolo quindi per esempio qua adesso logicamente appunto stiamo facendo qualche click di esempio vado su un altro un altro listino e troverò appunto il mio il mio articolo interessato e lo aggancio e lo aggancio appunto alla mia regola di calcolo ecco quindi appunto che avete capito che le regole le regole appunto sono utilità che io creo da un progetto partendo da un progetto ma in realtà poi le sfrutto per tutte le mie commesse con poche regole io appunto ho creato 16 righe di computo in questo caso quali altre utilità ho a disposizione ho a disposizione altre utilità che in particolare mi dicono benissimo ma quali sono gli altri oggetti da computare perché io appunto ho computato gli strati che riguardano l'intonaco ma posso chiedere al sistema dammi tutti gli altri elementi appunto che devono essere computati quindi gli posso dire dammi tutte le finestre ancora da computare quindi qua avere un elenco nel mio sistema che mi dice quali sono gli elementi che non risultano agganciati ad alcuna riga di computo quindi si diceva abbiamo la possibilità dalla riga di computo di vedere appunto gli strati chiedo scusa gli oggetti i componenti gli strati piuttosto che appunto dallo strato io potrei fare un clic destro e vedere la mia riga di computo agganciata questi collegamenti restano nel vostro preventivo quindi se io oggi inizio a fare il preventivo poi mi entro un'altra commessa e quindi mi spostano mi dicono lavoro sull'altra commessa fra un mese posso ripartire da questo punto e logicamente se non mi ricordo più cosa sono questi 160 metri quadri di intonaco grezzo non devo ricontrollare su un pdf perché perché il dettaglio è scritto qua sotto e io in questo momento posso controllare l'oggetto BIM da dove arriva avete visto che nel mio modello appunto si evidenzia ecco queste sono utilità molto molto importanti per noi quindi importo un EFC creo una regola di calcolo creo le mie righe di computo e poi appunto le posso riutilizzare per questioni di appunto di tempo andrò veloce a farvi vedere altre utilità molto interessanti di CPM e in particolare aprirò un preventivo dove ho anche un edificio di variante quindi apri un preventivo fatto con un file sempre generato da Archicad e vi mostro l'utilità appunto dell'aggiornamento preventivo quindi seleziono un modello seleziono la sua variante adesso andrò più veloce seleziono la sua variante e poi posso appunto controllare controllare le differenze che cosa significa significa che se io ho a un certo punto mi dicono guarda che il modello è cambiato e ho già iniziato il computo non devo ricominciare da zero perché il programma mi può controllare mi può controllare appunto ciò che è modificato e ciò appunto che per esempio è nuovo o che è cancellato quindi vi ricordo che se computate con un modello FC in CPM e avete delle varianti in qualsiasi momento il programma può consentirvi di aggiornare in automatico voi importate il nuovo modello e avrete questo report dove vi viene evidenziata ogni variazione e quindi potete generare il preventivo di variante senza dover ripartire appunto da zero con il nuovo modello questo appunto è CPM stiamo parlando appunto dell'ambito del 5D ancora un minuto e poi passo a computing cloud appunto un'altra utilità integrata e molto interessante di CPM è avere il cronoprogramma agganciato al modello BIM in CPM è possibile quindi generare un Gant da preventivo appunto per questioni di tempo vi faccio vedere ciò che avevo preparato prima che cosa avremo quindi avremo uno strumento che appunto è il diagramma di Gant come quello che avete per esempio in project ma sotto siccome questo Gant è generato da preventivo è un Gant anche economico quindi vedete che voi in qualsiasi momento potete controllare l'andamento economico del vostro progetto in più se questo Gant è stato fatto in modalità BIM voi in qualsiasi istante potete vedere gli oggetti BIM agganciati ai vostri task e potete anche lanciare una simulazione in un intervallo temporale ancora pochi istanti poi passerò alla parte di computing cloud vi ruberemo ancora pochi minuti e poi lasceremo spazio alle domande ecco vedete appunto che questo è CPM quindi CPM ha anche uno strumento di cronoprogramma quindi voi potete appunto anche sfruttare queste potenzialità e in più se lavorate in BIM avete visto appunto che potete anche avere una sincronia fra il vostro modello e il vostro Gant vado veloce e passo invece all'altro metodo di lavoro quindi parliamo di computing cloud uno strumento appunto di uno strumento completamente cloud vi si accede direttamente dal vostro browser quindi vedete che io ho aperto Chrome Google Chrome ho fatto il login in una licenza e accedo alla pagina principale dei progetti quindi questi sono i miei progetti ecco che computing cloud vi ripeto quindi un applicativo erogato in un browser è una web app ok quindi voi potete lavorarci a prescindere dal device che utilizzate potete lavorarci con il tablet potete lavorarci con un pc potete lavorarci con un mac computing cloud non ha un visualizzatore AFC come quello che abbiamo visto in CPM ma potete lavorare in BIM tramite un plugin andrò molto veloce visto che appunto dalla regia mi dicono che stiamo sforando allora il plugin di computing cloud come funziona siamo all'interno di Archicad vi faccio vedere un veloce video potete fare una login con cui accedete ai vostri dati che avete in computing cloud nella login appunto andrete a inserire la licenza che vi viene data al momento dell'acquisto la licenza appunto la mail e la mail con cui accedete quindi i vostri dati sono tutelati secondo la normativa GDPR andate a fare la login quindi siamo appunto ripeto all'interno di Archicad come vedete una volta che abbiamo fatto il login l'utilità di computing cloud sfrutta lo strumento di filtro di Archicad per filtrare gli oggetti omogenei per esempio andiamo a cercare tutte le pareti con un certo materiale con una certa stratigrafia una volta che l'abbiamo trovata appunto le andiamo quindi a selezionare nel nostro modello e andiamo ad aprire la maschera dei listini quindi la stessa cosa che mi ha fatto in CPM quando abbiamo selezionato un articolo la possiamo fare tramite il plugin che è a disposizione in Archicad ecco che selezioniamo quindi dai nostri listini andiamo appunto a navigare i capitoli dei nostri listini selezioniamo quindi l'articolo selezioniamo l'articolo e il passaggio successivo appunto è quello è quello in cui scegliamo la dimensione la dimensione appunto dell'oggetto che vogliamo che ci serve per il computo questo aggancio quindi oggetto BIM articolo può essere esportato verso computing cloud e può andare quindi a compilare un preventivo adesso andrò direttamente nell'applicativo quindi siamo all'interno di computing cloud come vi dicevo qua potete gestire le vostre commesse è un'interfaccia giovane è un'interfaccia molto agile io entro nel mio progetto posso avere da 1 a n preventivi come vi dicevo sia CPM che computing cloud vi consentono di importare ed esportare dati verso Excel voi in qualsiasi istante potete scegliere quali elementi andare a esportare appunto come vi dicevo o di importare verso Excel vediamo appunto per esempio l'export come vi dicevo proprio in un click quindi in qualsiasi momento voi siete abili e arruolati per collaborare con i vostri con i vostri appunto collaboratori in realtà il programma essendo completamente cloud e non dovendo installare nulla potete anche condividere i vostri dati con collaboratori esterni quindi io posso andare a invitare un utente a lavorare sul mio progetto questa persona entrerà e vedrà i dati che io gli condivido computing cloud vi consente di importare dati da XPVE quindi io semplicemente andrò a selezionare andrò a selezionare il mio file farò importa e quindi appunto posso importare dati anche attraverso XPVE se lavorate con i progetti appunto tipici di questo periodo del super bonus sappiate che se acquistate da noi un prezzario dei potete avere direttamente disponibili in computing cloud i vostri prezzari dei disponibili appunto per i vostri computi asseverati computing cloud come si diceva quindi può importare dati da Excel da XPVE è collegato tramite il plug-in ad Archicad quindi da Archicad scrivete le righe di computo direttamente in computing cloud come vedete è un'interfaccia veramente molto intuitiva all'interno di ogni progetto potete avere uno più preventivi nel caso appunto per esempio utilizzate anche programmi che vi consentono di gestire progetti del super bonus per esempio come Termolog computing cloud è integrato anche con Termolog quindi è una piattaforma nuova è una piattaforma distribuita da Team System dall'anno scorso su cui abbiamo diverse centinaia di clienti molto soddisfatti e come vedete è una piattaforma completamente innovativa i progetti possono essere identificati come con una fotografia e come vi dicevo ultima cosa visto che appunto mi dicono che sto sforando un po' troppo computing cloud può essere utilizzato anche da tablet vi faccio vedere un altro video quindi io qua sono su un tablet vedete che appunto è cambiata la risoluzione per quel motivo e posso andare a per esempio in cantiere a fare una foto a qualcosa che voglio agganciare al mio progetto ecco quindi sappiate che computing cloud è completamente appunto lo potete utilizzare su qualsiasi device quindi io posso posso andare appunto nel mio cantiere andare a fare una foto e andare ad agganciarla e correlarla al mio progetto di computing cloud comunque direi che vi ho fatto capire due scenari di lavoro due scenari di lavoro diciamo molto diversi ma che vi consentono che vi consentono appunto di lavorare in modalità BIM ovvero con cpm potete importare i vostri file IPC mentre che con computing cloud per esempio appunto potete lavorare con il nostro plugin e scrivere direttamente all'interno appunto le righe di computo all'interno del prodotto benissimo allora vediamo subito una prima domanda dove chiedono a proposito delle mappature proprietà per la nomenclatura degli infissi Claudio vuole sapere perché i due infissi avevano un nome uguale pur avendo dimensioni diverse un'impostazione di default del traduttore di Archicad che assegna al tipo ISI semplicemente il nome di elemento di libreria ragione per cui è fortemente consigliabile andare a sostituire a ridefinire la regola di nominazione degli elementi altrimenti può essere impostata manualmente Paolo vuole sapere se quando vengono scomposti gli elementi in strade o le pedate della scala ad esempio se si ha ancora il riferimento all'oggetto originale sì c'è ancora riferimento c'è la corrispondenza la relazione fra i subcomponenti e l'elemento genitore dopodiché Daniele ha dei dubbi sul controllo delle quantità come prima abbiamo visto che c'è un problema sugli angoli come facciamo a sapere che non ci siano problemi analoghi dalle altre parti che stratagemmi si possono adottare per il controllo beh sicuramente in ogni fase del BIM prima dell'esportazione verso altre funzionalità ma anche per dei punti di controllo interni al team è opportuno e fortemente consigliabile utilizzare degli strumenti di controllo e verifica di congruità del modello queste sono anche canonizzate all'interno del processo BIM ci sono secondo la norma uni tre livelli tre o quattro livelli addirittura di diversi tipi di controllo all'interno di Archicad ad esempio possiamo utilizzare le clash detection possiamo utilizzare le sovrascritture grafiche per fare diversi tipi di verifiche chiaramente bisogna prima preparare tutta una serie di di procedure di best practice per poter definire poter definire il modello in tutte le sue parti una domanda invece per Riccardo Gabriel chiede se deve per forza definire regola per regola il listino associato nelle regole posso definire come macro regola quale listino utilizzare tu mi senti Lario si ok allora come ben sapete viviamo in Italia e in ogni contea come nel medioevo in ogni contea c'è il suo listino quindi rispondo alla domanda con un'altra domanda il BIM ci consente di automatizzare veramente molto il computo adesso a parte i dubbi sulle quantità su cui dopo magari mi esprimo anch'io sul tema dei listi la risposta è sì bisogna indicare sulle regole l'articolo perché perché al momento in Italia se io uso il listino del comune di Milano magari trovo l'articolo scritto come intonaco premiscelato grezzo per superficie esterne se lavoro con il listino regione Lombardia magari lo trovo scritto come intonaco grezzo a base di cemento eccetera 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 quindi non essendoci al momento una regola che ci consenta di far corrispondere dei tipi di oggetti BIM a un articolo di listino purtroppo la fase iniziale prevede appunto che l'utente scelga un articolo in un listino specifico le regole volendo potrebbero essere anche create senza gli articoli ma poi se le volete usare nel momento in cui le volete usare per il computo allora dovete agganciare di un articolo quindi preciso meglio la risposta se uno vuole può crearsi il suo archivio di regole senza l'articolo e poi nel momento in cui entra la commessa aggancia l'articolo alle regole ok per quanto riguarda diciamo il dubbio che appunto il partecipante aveva in merito alla quantità mi sento di dire questo lavoro sui moduli BIM di CPM da sette anni quindi il tempo è passato e l'IFC ha avuto un'evoluzione strepitosa come pure l'IFC anche gli strumenti di modellazione e anche la qualità del dato che è scritto all'interno dei modelli BIM quindi Ilario ha fatto un lavoro molto analitico molto preciso in cui vi ha detto che il BIM facilita molto ma dovete stare attenti quindi quello che vi dico io da non utente modellatore BIM ma da utente che riceve i file che il BIM automatizza è comunque un metodo che facilita il lavoro di computazione e anche altre fasi logicamente l'essere umano e quella che è la competenza del computista non può venire meno quindi i controlli iniziali i dubbi iniziali ci possono essere e posso garantire che appunto i modelli BIM possono automatizzare larga parte delle quantità che vi servono in un comput poi quelli che sono gli accorgimenti che voi utilizzate anche quando lavorate a mano molto probabilmente dovrete utilizzarli anche quando lavorate in BIM faccio un esempio gli sfridi le sovrapposizioni tutte quelle percentuali cautelative che un computista mette in un computo le dovrete utilizzare molto probabilmente anche quando computate in BIM ok ma sappiate appunto che lavorare in BIM automatizza una buona parte della redazione di un computometrico perfetto ci sono invece tre domande che chiedono quindi le sintetizzo in una se è possibile lavorare con demolizione e ricostruzioni in particolare ci chiedono ma bisogna per forza esportare un modello con una prima versione e un modello con una seconda oppure all'interno di un unico modello c'è già questa informazione no allora rispondo io se posso Ilario non è un vincolo di Archicad perché questa domanda mi viene posta sempre anche con altri strumenti di modellazione ma è un discorso di logica ovvero se voi pensate anche quando si fanno come avete visto quando ci ha presentato Ilario entrambi siamo architetti quindi credo che anche lui all'università abbia fatto i gialli e rossi le tavole dei gialli e rossi in 2D o fatte addirittura a mano con i pantoni quando si fanno i gialli e rossi un oggetto può essere in parte demolito e in parte costruito e quindi c'era il problema delle campiture ecco anche nel BIM se io ho un oggetto che ha magari una parte che deve essere demolito una parte che deve essere costruita non posso mettere questa informazione che potrebbe essere in contrasto nello stesso modello ecco perché ecco perché per gestire le nuove costruzioni le demolizioni devono essere esportati da Archicad ma anche dagli altri strumenti di modellazione due file IFC e quindi computare le demolizioni da un file e le nuove costruzioni con un altro file questa è la risposta ma non è un vincolo del software ma un discorso di logica perché nessun software potrebbe gestire due stati in contrasto sullo stesso oggetto BIM ok? ok diverse domande sulla ad esempio cerco di riassumerle un po' tutte la differenza brevissimamente fra i due software e se Computing Cloud o meglio il plugin per Archicad di Computing Cloud gira anche su su Mac oltre a diverse richieste di contatto per informazioni commerciali in chat sto inserendo la la tua mail Riccardo così allora si aspetta aspetta un attimo Lario allora rispondo a tutto io beh allora CPM è un programma che lavora appunto su Windows invece la soluzione Archicad plugin e Computing Cloud vi consente di lavorare appunto su Mac in che senso nel senso che appunto voi Archicad ce l'avete su Mac il plugin è installato è installabile direttamente in Archicad e Computing Cloud come avete visto è una web app quindi io vi accedo direttamente da Google Chrome da Safari da Edge dal browser che voi utilizzate quindi Computing Cloud non installa niente sul vostro computer non scrive alcuna cartella di installazione è un programma completamente web quindi vi potete accedere dall'iPad dai vostri tablet non Apple quindi Computing Cloud consente di lavorare anche con Mac per informazioni commerciali vi chiedo questo voi potete tranquillamente andare sul sito www.computingcloud.it e verrete e praticamente avete un foro di compilazione per essere contattati quindi io non mi occupo di aspetti marketing commerciali non vi so dire prezzi quello che vi so dire macroscopicamente è che Computing Cloud è un programma in abbonamento quindi voi comprate un abbonamento di 12 mesi ha una sua tariffa ha una tariffa leviamente maggiorata se comprate Computing Cloud anche col plugin perché Computing Cloud vi consente di lavorare anche senza dialogo con con Archicad CPM ha due formule potete comprarlo installandolo sul vostro pc e quindi è per sempre vostro oppure CPM potete comprarlo anche in cloud e quindi anche in quel caso è in abbonamento perfetto una domanda scusate ho perso la domanda allora Roberta vuole sapere se con il plugin per Computing Cloud si risolve il problema del raddoppio del materiale negli angoli è qualcosa che è rimasto abbastanza impresso questa degli angoli beh non è un vero e proprio problema è una situazione di cui bisogna essere consapevoli e quindi saperla affrontare non è uno sbaglio non è un problema di ISI di Archicad di niente è così è una logica del modello come il modello è una strazione quindi ci sono diverse di queste situazioni basta saperlo e affrontarlo questo fa il paio in qualche modo con un'altra domanda ci chiedono nel caso di una parte di edificio addossata un'altra come si fa a scomputare a togliere la parte di cappotto che è appoggiata beh utilizzando le nostre stratigrafie se effettivamente per effetto del connessioni basate sulle priorità dei materiali la parte in questione viene omessa a quel punto non verrà computata del tutto Marco invece vuole sapere se Computing Cloud importa i preziari allora in Computing Cloud potete importare preziari in formato XML ma potete anche adesso mi spiace veramente non mostrarvelo perché questa cosa qua in un click avrei potuto farvelo vedere il mio computer mi scuso ma non si è ripreso avete direttamente a disposizione a costo zero tutti i prezari pubblici regionali camerali comunali sono listini online a costo zero poi se appunto come vi dicevo prima in questo periodo lavorate su progetti del super bonus potete acquistare da noi o dalla DEI i prezzari DEI e anche quelli nel momento in cui li acquistate il nostro sistema in automatico potete trovare il prezzario all'interno della vostra licenza di Computing Cloud ok una domanda invece ok nel caso l'architetto il progettista che stia lavorando sul modello BIM faccia il computo con Computing Cloud l'ingegnere lavora con altro software è possibile poi importare il suo computo quindi dell'ingegnere che lavora con altro software e computarlo in Computing Cloud sì sì allora prima ho citato un formato l'XPWE quindi senza nominare il competitor se l'ingegnere citato usa XPWE può esportare XPWE può essere importato in Computing Cloud oppure in realtà il nostro competitor numero uno è Excel quindi non è una battuta quindi se l'ingegnere ha un bellissimo foglio di Excel noi abbiamo messo a disposizione un template di import e con un copia e incolla e con un copia e incolla potete importare dati da Excel quindi la risposta è sì lo terzo scenario è che voi temporaneamente potete consentire all'ingegnere con cui collaborate di lavorare sui vostri dati quindi che cosa significa? significa che voi proprio dall'interno di Computing Cloud consentite invitate tramite mail quindi io Riccardo Scalari invito Ilario Burga a collaborare sulla commessa ristrutturazione di Palazzina in via Monterosa a Milano lui lavora direttamente sui miei dati non vede gli altri progetti vedrà solo questo progetto e una volta che è finita la collaborazione io disattivo il suo utente quindi diciamo che le modalità per collaborare con un applicativo come Computing Cloud sono veramente molte dalle più standard copia e colla ad Excel import XPVE piuttosto che se lavorate con persone che hanno CPM importate anche i file di CPM naturalmente se non un applicativo nostro piuttosto che consentire di lavorare direttamente nella vostra licenza sul progetto che voi potete condividere bene direi che possiamo fare l'ultima domanda molto tecnica quindi sicuramente è tua Riccardo Domenico vuole sapere in caso di regole di computazione oltre soglia come ci si regola ad esempio infissi oltre un metro quadro o cose del genere allora è una bellissima domanda quando io diciamo vengo chiamato in fase consulenziale a dare delle indicazioni consiglio sempre che se gli utenti devono computare vuoto per pieno possono aggiungere un parametro solo in Archicad possono aggiungere un parametro solo sugli oggetti che vogliono sottrarre in questo modo in CPM se parliamo dell'IFC in CPM andranno appunto a filtrare solo le finestre superiori a un metro quadro quindi questa è un'indicazione che io personalmente do quindi se ho sulla stessa facciata delle finestre sotto il metro quadro alcune sopra il metro quadro io andrò a mettere un parametro dimensionale che si chiamerà faccio un esempio area da sottrarre e appunto in CPM andrò a usare solo le finestre che hanno questo parametro questo è una modalità a costo zero che già molti utenti utilizzano certamente va bene hai anche risposto parzialmente a un'altra domanda simile riguardante il vuoto per pieno a questo punto abbiamo sforato di un quarto d'ora abbondante ringrazio tutti soprattutto chi è rimasto fino all'ultimo per la vostra presenza partecipazione le molte domande ce ne sarebbero ancora delle altre purtroppo non c'è modo di rispondere proprio a tutte comunque qui vedete i miei riferimenti e in chat vi ho messo quelli di Riccardo per domande più tecniche e quindi se avete altri dubbi altre questioni potete appunto scrivere possiamo proseguire questo dialogo vi ringrazio di nuovo grazie Riccardo molto molto interessante bene al prossimo sì qualsiasi informazione c'è il sito computingcloud.it dove appunto c'è anche uno strumento di chat quindi potete trovare dei video su quello che io per motivi di tempo non vi ho mostrato quindi video appunto sulle funzionalità standard del prodotto e nel caso appunto siete interessati a diciamo a un'offerta ma anche senza alcun vincolo c'è appunto una chat che vi collega direttamente col reparto inside sale grazie grazie a tutti della partecipazione grazie Ilario per questo invito bene grazie grazie a tutti alla prossima seguitici ah e scusate visto che lo chiedete in tanti sì la registrazione del webinar sarà disponibile sul nostro canale youtube tempo una settimana massimo dieci giorni lo potete ritrovare grazie arrivederci